Siamo nel terzo raggruppamento dei Terrier e con noi Valerio Nataletti American Staffordshire Terrier Bull Terrier Kerry Blue Staffordshire Bull Terrier Fox Terrier a pelo ruvido Cilliam Bull Terrier Miniatura Scottish Terrier Airdel Terrier Westy Beldington Terrier Jack Russell Yorkshire Terrier Allora il giudice Enrique Maté Duran nel pre-ring per cortesia Allora Raggruppamento dei Terrier Allora Abbiamo già tre selezionati L'American L'American Il Bull Terrier Il Bull Terrier Il Kerry Blue Lo Staffordshire E il Jack Russell Aspettiamo l'uscita degli altri Un applauso per chi ci lascia A miglior fortuna nelle prossime esposizioni Allora i cinque selezionati dal giudice Nataletti sono pronti American Staffordshire Terrier American Staffordshire Terrier Bull Terrier Kerry Blue Terrier Kerry Blue Terrier Staffordshire Bull Terrier Staffordshire Bull Terrier Allora 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 ci siamo terzo posto Staffordshire Bull Terrier secondo posto Kerry Blue vince American Staffordshire Terrier Sous-titrage ST' 501